Quello entrato in vigore un anno fa doveva essere un contratto ponte. Lo dissero i sindacati, forse anche per giustificarsi per aver firmato un accordo tutto sommato modesto, soprattutto se si considera che gli stipendi nel comparto scuola erano fermi ormai da tempo immemorabile. Durante la campagna elettorale poi il tema degli stipendi europei è stato usato un po' da tutti per tentare di accaparrarsi i voti del mondo della scuola. Con il cambio del governo poi molti avevano sperato che il 2019 sarebbe stato un anno straordinario e invece a conti fatti con la legge di bilancio approvata nel dicembre scorso le risorse stanziate per i contratti pubblici bastano solamente per riconoscere l'indennità di vacanza contrattuale. In pratica al personale della scuola come a tutti gli altri statali verrà riconosciuta una indennità di 8 euro lordi a partire dal mese di aprile, indennità che da luglio diventerà addirittura di 13-14 euro, sempre lordi ben inteso. Per essere ancora più precisi va anche detto che l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale è un atto dovuto e non è neppure legata alla volontà politica del governo. Per gli aumenti bisognerà dunque aspettare il 2020, sempre che con la prossima legge di bilancio vengano stanziate le risorse necessarie. Intanto entro un paio di mesi il governo dovrà presentare il nuovo DEF, il Documento di Economia e Finanza e a quel punto si potrà capire qualche cosa di più. Il tema è molto caldo e interessa ovviamente tutto il personale del mondo della scuola. Su questo argomento noi continuiamo sempre a ricevere mail e lettere da parte dei nostri lettori, quindi continuate a scriverci, continuate a seguirci sia sul nostro canale YouTube e anche sul sito www.tecnica della scuola. Continuate anche a scriverci, noi nei prossimi giorni ci occuperemo ancora di questo argomento. Grazie a tutti.